E bello a tutti ragazzi, qui ho detto anche vi parlo, quindi state bene sentire Edoardo Tognolo come volete Oggi parleremo dell'Inter che va a vincere 2-0 sull'Empoli in casa, andiamo a vedere La Serie A e Team presentano la Serie A Amici della Serie A Team, un pomeriggio da Giorchiero Poglia a Mazzillo a San Siro per la 24esima giornata tra pochi minuti in campo Inter ed Empoli Adesso ci siamo, tutto pronto a San Siro, comincia Inter e Empoli Parte Gioomario, pennella dentro, lo stacco di Palacio, il miracolo di Skorupski Il pallone in calcio in angolo, prima clamorosa chance per l'Inter, la porta Rodrino a Palacio Non ci credo, non ci credo, non ci credo ancora come l'ho parato Bene Palacio, con il petto a terra E-tell E-tell A-tell l'Inter è in vantaggio sull'Eppoli apri assista per il Capuri la frenata provo ad andarsene bene il Capuri sul condoppiante destra a giro, rispinge a Danović e poi a Gagliardini ha da regar per primo ah, bella parata si comincia il secondo tempo l'appoggio per Pucciarelli con qualità con Krunic, Krunic il miracolo di Andanović Macaroni ci prova con sinistro pallone alto allarga Palasio riparte l'Inter dopo la minaccia bellissima che azione bellissimo il cross e anche la conclusione si è vero vai Christiane e è finita tui a te tui a te